Oh, ce l'abbiamo fatta, eh? Stavolta siamo nel posto giusto, è da qua che parte il viaggio delle stelle. Oh, ci sarà un casino, biciclette, i believers, televisioni, i giornali. Oh, mi raccomando, fatemi fare bella figura, eh? Sorrisi ampi! Ma i giornalisti, i believers, le biciclette? Eh beh, siamo a Milano, no? Sì, sì. Piazza Chiaroletti? Sì. Sabato? Sì. 25 maggio, no? No. Eh, vabbè. Vabbè, raga, come la fate lunga, siete sereni, no? Ci mettiamo qua un attimo comodi e arrivano. Ma è contenta di sorridere? Grazie a tutti. Grazie a tutti.